I vetri si ricomprano, le porte idem, le finestre si rifanno, la tranquillità ci vuole il tempo per rifarla e spero, visto che una ragazza forte caratterialmente si riprenda la prima possibile. Attimi di paura per una giovane dipendente del gruppo Menchetti a San Giovanni Valdarno. Lunedì mattina attorno alle 4.30 la ragazza è entrata al lavoro ed ha trovato i ladri all'interno del locale. Per lo spavento si è sentita male rendendo necessario il trasporto all'ospedale da parte dei sanitari del 118. Mi è rimasta proprio scioccata mentalmente. Non so se l'hanno rimandato o no, però penso che nella giornata la situazione era più emotiva che fisica. Non è che ha avuto collutazioni, però ritrovarsi, accendere le luci, persone dentro tutte coperte, incappucciate e tutto il resto, penso che anche a me avrebbe fatto sicuramente. I ladri, armati di attrezzi da scasso, si sono introdotti nella notte all'interno del negozio forzando una porta sul retro ed hanno addirittura oscurato alcune telecamere di videosorveglianza con la vernice spray bianca. Nelle mire dei banditi probabilmente la cassaforte è che non sono però riusciti ad aprire. Si sono infatti dati alla fuga a mani vuote non appena vista la ragazza entrare. È già capitato anche in passato, purtroppo a fine giornata chiaramente le domeniche e sabati sono i giorni più importanti per le nostre aziende e siamo stati chiaramente coinvolti in una faccenda non bella, soprattutto per la ragazza che ci si è ritrovata lì quando è entrata dentro e ha trovato dei ladri che stavano cercando di forzare la cassaforte. Sull'episodio indagano i carabinieri di San Giovanni Valdarno.